Medicina tradizionale o cure alternative è il tema dell'incontro dibattito organizzato dall'Associazione Focus presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Relia, Florida. Sono intervenuti il dottor Giuseppe Colomasi, medico chirurgo, e la dottoressa Marinella Getulio, biologa nutrizionista. Il dottor Colomasi ha esposto le differenze principali tra medicina ufficiale e medicine alternative. L'argomentazione del dottor Colomasi è stata supportata dal sindaco dottor Giovanni Limoli, intervenuto al dibattito in qualità di medico, e dalla dottoressa Marinella Getulio che ha posto l'accento sull'importanza dell'alimentazione, soprattutto come strategia di prevenzione delle malattie e sull'opportunità di adottare la dieta mediterranea come stile di vita sin dall'età pediatrica. L'incontro si è concluso con la proposta di programmare per la terza edizione del progetto culturale dell'Associazione Focus un ciclo di incontri atti ad indagare le molteplici tematiche legate a prevenzione e salute. La medicina scientifica o medicina tradizionale si basa su dei concetti di razionalità, di studi fondati, di impostazioni metodologiche e quindi mentre le medicine alternative e complementari partono da un altro presupposto. Per cui la medicina alternativa è difficile che si possa fondere con la medicina ufficiale o scientifica perché in questo caso verrebbero meno le componenti strutturali delle due, mentre le medicine complementari possono integrarsi in quanto per esempio la massoterapia, la dietoterapia, la psicologia, tutte queste possono integrarsi con la... perché il problema è questo, è come se si parlasse un linguaggio diverso. Quindi è difficile che se io devo curare una malattia col metodo ufficiale poi posso curarla anche con, non so, l'omeopatia nello stesso tempo, il reiki o la medicina tradizionale cinese, che nel loro mondo possono avere anche una loro razionalità di impiego, però riguardo anche un tipo particolare di patologie. Quindi il discorso è un po' complesso. Diciamo che non ci sono compartimenti stagni, evidente, però se io approccio una malattia importante con una metodologia scientifica dovrei quantomeno continuare su questa strada. Dottoressa Getulio, in che modo l'alimentazione può aiutare a prevenire l'insorgere di malattie e aiutare ad essere più longevi? È una risposta che è sempre complessa, in realtà è piuttosto semplice. Il segreto è la dieta mediterranea. Grazie alla dieta mediterranea riusciamo a dare all'organismo tutto ciò che serve per stare bene e per invecchiare in salute. È importante proprio invecchiare in salute perché il problema è proprio questo. Purtroppo dopo una certa età insorgono tutta una serie di patologie cardiocircolatorie, diabete e quant'altro, sono tutte legate all'obesità. Quindi basta mantenersi snelli, attivi e il segreto è tutto qua. Un'alimentazione corretta ti permette di correggere tutti i valori ematici e quindi tutto questo protegge il nostro organismo ci fa invecchiare sani e ci fa morire vecchi proprio per vecchiaia e non per l'insorgere di queste patologie. Dottoressa, la predisposizione all'obesità può essere trasmesse in un certo senso anche tramite il latte materno? Sì, la risposta è decisamente sì. Ci sono degli studi che ormai sono anche abbastanza corposi e ormai anche accettati da tutta la comunità scientifica. Effettivamente si è visto che i bambini allattati con un latte materno da una mamma che non si alimenta bene sono già predisposti sin da piccoli a diventare in sovrappeso o addirittura obesi. Il problema è che quando un bambino è in sovrappeso necessariamente sarà quasi sicuramente sarà un adulto obeso. Il problema di questo punto, infatti i pediatri ormai tendono a lavorare proprio sulle mamme, proprio fin quando hanno neonati e se non fin quando sono nel grembo, proprio perché i bambini che aumentano di peso aumentano la massa grassa, ma la massa grassa non aumenta solo perché le cellule si ingrossano. Praticamente che succede? Avere un quantitativo di massa grassa in più significa avere anche un numero maggiore di cellule adipose. Quindi da adulti noi potremmo agire, se si ha a che fare con un soggetto in sovrappeso obeso, potremmo agire solo esclusivamente sul volume della cellula, di conseguenza della cellula grassa. Di conseguenza quel soggetto avrà sia difficoltà a dimagrire e in ogni caso sarà predisposto maggiormente a patologie cronico-degenerative. Quindi in questo contesto in cui stiamo parlando di medicina scientifica e cure alternative, possiamo dire che l'alimentazione è la prima forma di cura? Sì, si può dire, perché nel momento in cui c'è una patologia può semplicemente coadiuvare la terapia che viene data dal medico, ma nel caso in cui ancora la patologia non c'è e comunque c'è una predisposizione genetica, perché si è visto che ci potrebbe essere anche una predisposizione genetica, l'alimentazione è il fulcro proprio centrale perché proprio ci permette di fare prevenzione. Sindaco Limoli, questa sera in una doppia veste sia appunto da sindaco ma da medico, cosa ne pensa di questo dibattito, incontro sul tema delle medicine scientifiche e delle cure alternative? Allora, stasera sì, intanto buonasera a tutti. È un argomento interessantissimo, io direi che è l'argomento del giorno, anche perché la medicina tradizionale procura delle sensibilizzazioni che procurano molto danno ed ecco perché si è pensato ultimamente a fare un po' di medicina alternativa. Di medicina alternativa ce ne sono tante, però quello che devo aggiungere è che in effetti ci sono degli ottimi risultati in alcuni casi, ma non sappiamo il motivo, non sappiamo il perché, non possiamo neanche giustificarlo, come mai? Certamente badono molto e colpiscono parecchio, oddio colpiscono, si interessano più della sfera psicologica del paziente, ecco questa è la cosa che di sicuro noi sappiamo. Alcuni cominciano a individuare nell'intestino un secondo cervello, quindi come sede anche di emozioni, quindi alla luce di quello che diceva lei, le medicine alternative in questo senso curano più le emozioni che le patologie forse in sé? Allora, tutte le nostre problematiche noi le canalizziamo normalmente. Il posto più frequente è lo stomaco, l'intestino, abbiamo la colite spastica, la gastrite di natura nervosa, quindi di natura vagale. E allora, quello che dico è che una medicina alternativa può risolvere questo problema, se il paziente oltretutto ci crede. E molto spesso il paziente non riceve un buon risultato da quella che è la medicina normale, quella che noi usiamo normalmente. Allora sì, può avere un ottimo risultato, ma proprio perché è in gioco il problema psicologico, il problema nervoso, la canalizzazione di uno stato emotivo, dello stress, ecco, e lì si possono avere degli ottimi risultati. Qual è il meccanismo è quello che non sappiamo, ma sicuramente perché il paziente che già a priori sta bene, ecco partiamo da qui, abbiamo un organismo che è ottimo, non è ammalato, reagisce bene e può risolvere quel piccolo problema che ha.